Mi associo anch'io al suo appello per Domenico Quirico. Per anni ho lavorato in zone di conflitto, in zone di guerra, dove ho incontrato molti inviati italiani e ho visto i pericoli ai quali vanno incontro pur di restituire all'opinione pubblica la durezza e la complessità di certe situazioni. So bene che rischiano anche i giornalisti più esperti, come è Quirico, perché Domenico Quirico è un giornalista esperto. Perché rischia anche una persona esperta come lui? Perché in certe aree le variabili sono impossibili da controllare, impossibili. Partecipo dunque in maniera particolarmente sentita all'ansia dei suoi familiari e colleghi e spero che presto Domenico possa tornare ad abbracciarli e essere qui insieme a noi.